Derby vibrante al comunale di Castelnuovo, tra due squadre dagli umori opposti. Sette punti nelle ultime tre per i locali, uno solo conquistato dal Chiedi. I neroverdi partono forte e dopo appena due minuti vanno vicini al vantaggio. Sugli sviluppi di un corner, la conclusione di Di Mino viene respinta dalla difesa. Quattro minuti dopo ci prova anche Ventola da fuori. Paranatale. Si resta sullo 0-0 per caso, perché entrambe le squadre spingono, dimostrando di volersi prendere l'intera posta in palio. E infatti il risultato si sblocca. All'undicesimo Sparvoli fa le prove generali con una grande incursione della sinistra. I neroverdi si salvano, ma quattro minuti dopo arriva il gol. Ancora con Sparvoli, ancora della sinistra, con il suo traversone in mezzo, diviato in porta da un difensore teatino. Sbloccato il risultato, la partita cambia e il Castelnuovo domina. Al venticinquesimo Foglia ha un'ottima occasione, ma Cincischia perde l'attimo. Poco dopo ci prova anche Colì. È la fotografia delle difficoltà del Chiedi e il salvataggio di Luasni, in versione difensore, per sventare un campanile. Emili è un'ottima occasione per il raddoppio. Salvata dal Chiedi sulla linea al trentanovesimo. Ma anche in questo caso è il preludio a ciò che accadrà pochi secondi dopo. Stavolta però sono gravissime le responsabilità del portiere teatino Fusco, che con uno scellerato passaggio corto spalanca a Lorenzo Emili le porte di un 2-0 comunque meritato per quello che stava producendo il Castelnuovo. Al rientro in campo dell'intervallo è un altro Chiedi. I ragazzi di Lucarelli accorciano le distanze dopo sei minuti, con il solito Luca Fabrizi, al dodicesimo centro stagionale sui 25 totali della sua squadra. Ed è ancora Fabrizi a sfiorare il 2-2 pochi minuti dopo, con un tiro dalla distanza vicinissimo al bersaglio. Il Chiedi spinge, ma di occasioni concrete ne crea poche. E anzi, è il Castelnuovo a sfiorare il Trissi in due occasioni, sempre con De Giglio, che al trentacinquesimo semina il panico nella difesa con una splendida azione personale. E al trentanovesimo si divora una colossale chance da buona posizione. Ma è il preludio al 3-1 che chiude i giochi al minuto 89. Cross di Ludovici, testa di bubola appena entrato, è meritato Trissi un lanciatissimo Castelnuovo sempre più vicino alla zona salvezza diretta. Discorso opposto naturalmente per il Chiedi, che vede avvicinarsi pericolosamente le sabbie mobili dei play-out. Oggi ci aspettavamo sicuramente una prestazione diversa dalla nostra squadra, soprattutto nel primo tempo, dove chiaramente abbiamo fatto degli errori grossolani, abbiamo sofferto molto la loro aggressività e anche la loro scaltrezza. Abbiamo fatto degli errori che abbiamo pagato, anche se poi nel secondo tempo la squadra ha ripreso a giocare, però era troppo tardi ormai, era troppo tardi e noi non ci possiamo permettere di fare queste prestazioni. Dobbiamo sicuramente metterci più furbizia, più scaltrezza e soprattutto più personalità. È chiaro che la società non è soddisfatta assolutamente, perché la prestazione è stata sotto tono e questo chiaramente fa male un po' a tutti, soprattutto in questo periodo dove i punti sono fondamentali, sono importanti e non possiamo fare questo tipo di prestazione. Per cui ci dobbiamo rimettere subito sotto, perché già da mercoledì si rigioca. Chiaramente dobbiamo avere un altro atteggiamento sicuramente in mezzo al campo. Sì, soprattutto per il risultato finale e per la prestazione della squadra, perché questo gruppo si merita di raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati e sono convinto che tutti insieme riusciremo a raggiungerlo, perché siamo un grande gruppo. Nonostante tutte le difficoltà che tutti sapete che ha avuto questa squadra, però il gruppo secondo me alla fine tirerà avanti la carretta e riusciremo a raggiungere l'obiettivo. Perché ci fa muovere di brutto la classifica, parlando concretamente, soprattutto di valore, perché ho visto una squadra che ha voluto questa vittoria, che ha saputo soffrire, ha fatto anche delle bellissime cose. Questo è lo spirito che deve tenere la mia squadra fino alla fine. Loro lo sanno, lo stanno facendo proprio con grande determinazione e grande convinzione, quindi la strada è questa, l'abbiamo intrapresa e non bisogna mollare.